Cari spettatori del Cinevirus, un film da raccontare e soprattutto da immaginare. Oggi vi parliamo di indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. 1970, in Italia è appena scoppiata la bomba di Piazza Fontana, regia di Elio Petri, l'interpretazione di Gian Maria Volontè e di Florinda Volcan. È la storia di un commissario di polizia nominato capo dell'ufficio politico. Nello stesso giorno il commissario uccide la sua amante. Un po' lei lo provoca, gli parla di un giovane amante e uno studente contestatore, ma un po' lui è forte della sua arbitrarietà, perché lui è un uomo di potere e questo film ha un tema che è ricorrente e trasversale nell'opera di Elio Petri, il potere e chi lo impersona. Il commissario reagisce immediatamente con grande arroganza, ma poi è preso da una sorta di torzione contorsione con se stesso, che lo porterebbe a denunciare se stesso, ad autopunirsi, fino a una sorta di delirio onirico in cui immagina che i superiori vengano a casa sua e gli impongano di firmare una lettera in cui lui si confessa innocente. Non può denunciarsi perché la posizione di potere che lui occupa non glielo consente, ma noi non sappiamo come il film va a finire. Vediamo alla fine entrare i superiori nella sua stanza e lentamente le tapparelle della finestra che scendono fino ad oscurare tutto. Petri ci lascia con una citazione kafkiana. Qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano. Il film ebbe un grandissimo successo, un po' per il tema, un po' perché era la prima volta forse che si entrava dentro una istituzione, ma poi per la straordinaria interpretazione grottesca, sarcastica, eccessiva di Gian Maria Volontè e per la colonna sonora di Ennio Morricone, il marranzano, il mandolino suonato come un clavicembalo, il sax tenore, la sceneggiatura di Ugo Pirro, il film vinse anche a Cannes e l'Oscar come miglior film straniero. 1970 continuiamo a raccontare e soprattutto a immaginare indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.